Ciao ragazzi bentornati su yokai watch italia video leaks che sto registrando con una fretta incredibile perchè deve uscire effettivamente prima del video cioè dell'evento ovviamente quindi si sto girando questo video alle 9 che per voi uscirà credo verso le 11 massimo per poi aspettarvi il pomeriggio stesso quindi dopo qualche ora dall'uscita del video in live direttamente per giocare questo nuovo evento che come sapete tutti ormai uscirà il triplo z ovviamente vi chiedo un'iscrizione campanellina like tanto qua vedete foto del mio gatto lasciate stare e partiamo subito partiamo subito con i leaks perchè c'è un bel po' di roba da vedere allora partiamo subito dalla cosa numero 1 ovvero la tipologia di evento che come sapevamo tutti non poteva essere farmabile perchè è uscito da poco un evento farmabile quindi nessuno ci aspettava un evento torneo incredibile pazzurdo ma è una slingshot yeee allora questa slingshot sappiamo che appunto c'è il dottore questo dottore qui che avevamo già visto nell'evento dei rampage se vi ricordate la categoria dei rampage quella categoria di yokai dove ci sono tutti i yokai in cavolati neri con un'aura super incredibile assurda che appunto sono esperimenti fatti da dal dottor frank dovrebbe chiamarsi dottor frank o dottor primatto non mi ricordo comunque è lui la sua versione cattiva c'era anche la sua versione rampage che è uscita qualche tempo fa comunque l'evento slingshot ormai lo sopevamo tutti non poteva essere nient'altro che quello questo è il livello normale quindi probabilmente ci sarà lui da battere come livello normale abbiamo anche questo simbolino qui che dà un bonus ma non si sa ancora che bonus probabilmente è ricollegato a un'altra immagine che adesso vi faccio vedere quindi questo qui è il livello normale della slingshot abbiamo quest'altro invece che è il livello difficile della slingshot ovvero il nostro mitico whisper che è questo qua spettacolo whisper ragazzi devo dire che è spettacolare cioè non c'è tanto da fare bozo whisper insomma è tanta roba è molto molto bello e credo sia anche abbastanza forte anzi adesso gli energy max li andiamo a vedere per bene anche tutti i vari rank comunque devo dire che è bellissimo è incavolato nero vedete c'ha la lingua di fuori sembra venom bellissimo bellissimo quindi lui appunto sarà come sapete la ricompensa del livello difficile della slingshot probabilmente livello 9 o livello 10 ancora non si sa bene lo vedremo comunque oggi pomeriggio con l'evento andando avanti questi sono i yokai ovviamente nuovi che se avete visto la mia pagina instagram ieri ho pubblicato la foto con il banner con tutti i yokai e sono spettacolari cioè c'è poco da fare questo ovviamente come avete già visto dalla copertina o dalla immagine qua a fianco è il triplo z ragazzi quindi sì avevamo ragione non poteva essere whisper perché mettere whisper triplo z no come avete visto ci sono stati quiz questi giorni dove dovevamo indovinare tutte le varie cose il triplo z è appunto enma fusionato con rin e ci sta devo dire che è venuto anche abbastanza bene l'hanno fatto abbastanza bene gg per loro questo è whisper come vedete c'ha gli occhi boh non ha le pupille è un whisper molto 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 cattivo ho paura di incontrarlo sincero poi abbiamo nekomata in modalità in tenuta estiva insomma di festa perché appunto vi ricordo che questo qua è l'evento oltre ad essere l'evento del triplo z è l'evento per festeggiare gli 8 anni di yokai watch dall'uscita in giappone quindi esattamente l'11 luglio 2013 era uscito se vi ricordate yokai watch 1 in giappone e oggi sono cioè l'11 luglio si festeggiano gli 8 anni di yokai watch dall'uscita in giappone per questo hanno fatto questo evento per celebrarli poi abbiamo questo enma qua che è un doppio z è interessante interessante io speravo che ci fossero questo enma qua e questo rin qua che si potevano fusionare per dare vita a emma triplo z avrebbe avuto molto più senso ma questa teoria ancora non si sa non si sa se emma triplo z sarà nella slot spero di no perché non avrebbe senso metterlo nella slot in modo che tutti lo possono pullare secondo me sarà come emma z z se vi ricordate c'era da batterlo nel suo stage e con i sigilli che riuscivate a chiudere facendo i livelli della slingshot lui perdeva magari si diminuiva il colpo il contrattacco la cura o le sfere che faceva cadere che fanno danno quindi credo sarà una roba simile a quella anche se non c'è ancora stato non c'è stato ancora l'immagine dove si fa dove si vede appunto la il suo stage con tutti i sigilli non lo so vedremo oggi pomeriggio live vi ricordo seguiteci live alle 17 per questo mega evento dove pulliamo e se nella crank cerchiamo di ottenere il triple z subito così da fare i fighi comunque ma poi abbiamo benimaru che benimaru boh è gakuen comunque ci sta ci hanno incassato gakuen io non ero molto contento dal fatto che ci hanno incassato gakuen però è comunque una parte di yokai non è gakuen non è una serie principale di yokai come sapete è uno spin off però ce l'hanno messo va bene tra l'altro ha la maschera di un vecchio doppio z che era uscito qualche evento fa se vi ricordate e va bene ci sta jibanyan e komasan che sono appunto jibanyan komasan e nekomata che sono diciamo i tre yokai insieme a whisper più famosi della serie anche loro in versione festiva perché sono tutte in versione festiva che festeggiano appunto l'anniversario di yokai poi abbiamo warin che come avete visto è un doppio z e adesso vi dico anche gli energimax e tutte le cose e poi abbiamo fudomio o akala come volete chiamarlo anche lui dovrebbe essere z e basta questi qua sono i yokai sono 9 yokai ci sta ci sta ci sta di solito si vengono rilasciati 9 barra 10 yokai ancora non si sa se ci sarà uno di metà evento probabilmente si vedremo vedremo quindi cos'altro vi posso far vedere ah vabbè questa qua è l'immagine del triple z che appunto vedete anche nella copertina a fianco a destra e devo dire che è spettacolare cioè è bello è bello forte è bello 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 e effettivamente una fusione tra rinne ed emma quindi hanno messo il corpo di rinne con la testa di enma le mani di enma e il vestito di enma e devo dire che è spettacolare ragazzi mamma mia mamma mia bellissimo poi che cos'altro abbiamo abbiamo questo che è collegato al fatto di questa scritta qua ovvero che i vecchi yokai bozo hanno avranno bonus in questo evento quindi avremo amaterasu zz soranaki zz lui si è soranaki si è soranaki forma umana lui il primo emma zz uscito kaira zz fudomio rampage zz noruka soruka che è quello di sangokushi e rinne zz bozo poi ci sono anche gibanyan t komasan d e komajiro d che hanno bonus anche loro wow gibanyan versus level 10 whisper slingshot battle prossimo video eccolo lì no comunque ci sta che abbiamo messo che i vecchi yokai hanno bonus non so se saranno pullabili non so se li metteranno nella slot probabilmente sì e quindi sì abbiamo poi anche la moneta andiamo a vedere abbiamo la moneta è quella qua la moneta dell'ottavo anniversario che verrà data a tutti come premio per il quiz però attenzione solo questa qua solo quella argento ok quella argento quella dorata che è questa probabilmente si prenderà o con una ricompensa della sling oppure si potrà comprare per punti o dalle missioni o addirittura shopparla ora spero non non si deva shoppare ma credo sia ottenibile dalle missioni adesso vedremo questa moneta qua ancora non si sa che cosa si può ottenere però come sapete c'erano i quiz di puni puni che appunto si indovinavate i yokai la community avrebbe ricevuto questi oggetti in particolare riceveremo una moneta whisper la moneta dell'ottavo anniversario che è questa questa qua e poi riceveremo anche la moneta da ruma quella da 10 da 10 bije una multi in pratica che viene data di solito all'inizio anno dati rispettivamente oggi quindi il primo dovrebbero essere già disponibili dovrebbero arrivare a breve queste tre ricompense quindi magari dopo aver finito questo video provate a loggare in game e vedete se avete le tre monete e ultima cosa parliamo degli energy max e dei rank anzi i rank vi l'ho già detti parliamo delle energy max il triple z non c'è qui questo screen l'ho preso dal gruppo di yokai che gentilmente me l'ha dato ha mi dato Simone il permesso di farlo vedere nel video quindi lo ringrazio perché ha cercato lui tutte queste cose allora abbiamo il triple z che vi dico già che sarà un extreme popper un po' particolare perché sia un extreme popper ma probabilmente avrà qualcosa in più rispetto a un normale extreme popper perché ovviamente non è che ti mettono lo zzz con un energy max uguale agli altri credo abbia un energy max differente e nuovo soprattutto rispetto agli altri yokai quindi abbiamo gli energy max abbiamo emma zzz che è fatemi vedere questo qui uno si parla di enma intendo enma il grande quindi questo qui questo qui e sarà un inflader and popper quindi come quelli che abbiamo avuto ormai in questi ultimi due eventi che appunto come shuka o come l'altro yokai zzz che non mi ricordo abbiamo ringne zzz che è un popper che cancella tre tipi di puni questo non l'ho capito ma credo sia un un random popper poi whisper zzz è un popper centrale che paralizza e si sa già anche la sua passiva ovvero quello che rianima resuscita quindi è molto importante come passiva come yokai si può utilizzare in alcune circostanze benimaru zzz che è il più figo di tutto ovviamente attack booster con la g quindi un altro di quei attack booster ormai li stanno facendo tutti quanti zzz ci sta effettivamente servono per dare anche finalmente un nuovo booster audace mega booster audace quindi ci sta si può combinare a dandori normale dandori dandori z poi abbiamo fudomio che dovrebbe essere anche lui uno z che è un all popper che cura nulla di che e poi komasan ss che è un booster di punteggio invece nekomate e jibanyan saranno dei triple s non si sa cosa faranno ma sicuramente saranno inutili perchè i triple s non sono mai utili a nulla quindi signori miei abbiamo finito non so quando sto recando da 12 minuti un botto comunque vi lascio con questo fantastico elma zzz 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 di non so dirlo è troppo lungo chiamerò triple z per comodità quindi niente ci becchiamo il live alle 17 vi racconto trovate la live programmata qua sotto in descrizione in descrizione trovate anche il link del sito di uk watch e spagna che anche lì dà tutte le informazioni che ho detto anch'io in questo video riguardanti il nuovo evento quindi iscrizione campanellina like e noi ci vediamo oggi pomeriggio in live su youtube appunto per giocare il nuovo evento e vedere se riusciamo a reclutare o pullare ancora non si sa il triple z ci vediamo dopo ciao ragazzi